euromario con mario corticelli buonasera, buonasera, nuova puntata di Euromario qui dagli studi di Radiobasket Italia è una puntata sicuramente interessante perché ovviamente ci stiamo avvicinando sempre di più alla fase calda alle sentenze della regular season di Eurolega il round numero 27 è andato in archivio e lo commenteremo questa settimana in programma il 28esimo sembra passata una vita fa per chi segue la Virtus Segafredo ma noi non vogliamo stare concentrati solo su questa per cui faremo una panoramica a cominciare dai risultati ricordiamo che siamo in diretta ovviamente problemi tecnici permettendo perché tutti i social del gruppo Meta Facebook, Instagram erano andati in crash come si dice in gergo tecnico però siamo in diretta se tutto va bene sui canali social di Facebook Radiobasket Italia Instagram Radiobasket Italia YouTube Radiobasket Italia in più il notaio sta lavorando su sviluppi tecnologici quindi ci sono io in regia abbiamo il nostro Fede Fioravanti buonasera ben trovato buonasera buonasera che ha fatto di ritorno dal Brasile dove ha fatto un gentile omaggio di un ottimo gadget della Fluminense campione di Coppa Libertadores ricordiamo quindi vedremo vedremo cosa farà a dicembre al mondiale per club ha già perso te lo dico 4 a 0 contro Manchester City ah era già quella pensavo quella dopo ok era già quella però ha vinto ha vinto la Re Coppa ok contro Kito Kito 1 a 0 2 a 0 la Supercoppa Sudamericana ok speriamo che possa bissare che magari a dicembre ci sia un bel Inter Fluminense in finale del mondiale per club va bene finito il momento dei sogni ecco qua il nostro Piri Numbers che è la razionalità fatta a persona ovviamente con i suoi numeri e le sue statistiche ricordiamo il numero per interagire con noi 3 5 1 5 6 9 4 9 5 5 facciamo partiamo appunto con una panoramica sei sicuro? perché io ho già due messaggi belli allora partiamo perdonatemi se entro proprio a gamba tesa ma entra a gamba tesa Sandro Jack Sandreani buonasera ha scritto un grandissimo Mario Garibaldi questa sera allora Sandro ti spiego la dietrologia al di là che è molto carina scusa Piri però non potevo non iniziare con questo hai ragione capisco sono in tenuta da allenatore perché devo scappare via le 8 spaccate se non prima prima perché stasera alle 21 e 20 c'è in Fieri San Lazaro una vile basket e quindi ho dovuto cambiarmi al volo questo è il look da partita in trasferta la cravatta rubata all'Olimpia no la cravatta rubata all'Olimpia è quella in casa ah ok scusa grazie non è un problema a proposito di Olimpia Alex Serboni ci scrive sei numero uno parlami di da dove io Alex lo adoro anch'io gli voglio bene dell'anima mi dispiace di non averla affrontato anche perché poi ero squalificato quindi contro San Mamo però Alex ti voglio bene credo che anche tu abbia visionato il video ma questo ne parleremo alla prossima trasmissione posso dire tu hai detto che anche tu stravedi per Alex anch'io infatti sono ancora amareggiato per quel colpo fortuito che gli hai dato sul labbro povero che poi non è stato benissimo gli mando ancora una volta un grande abbraccio ma suona bene Alex ha un viso carino eccetera non possiamo poi mano pazzesca almeno così parla qualche ferita di guerra la può esibire certo poi ho anche un audio se volete vi lanciamo subito con degli argomenti ci mancherebbe altro buonasera carissimi saluti a tutti quanti ringrazio in particolare Donna Zoveide perché grazie al suo 14 ho sbancato l'otto e sono qui a Monaco insieme al mio amico Mike vi saluta anche lui ha detto adesso stasera andremo a fare un po' di Baldoria faceva una domanda semiseria Zizic l'ha imposto la società è stato preso concordando con l'allenatore e qual è la situazione perché a questo punto la faccenda si fa nebulosa saluto tutti quanti qui qui dalla Costa Azzurra baci e abbracci se Donna Zoveide mi vuol dare qualche altro numero così magari poi la prossima volta vado a New York o Dubai vediamo grazie bene altro come dicono benissimo allora Jack te lo tengo lì ti tengo la suspense ti faccio la pausa craxiana allora torniamo ai risultati no contest a Berlino non gli rispondiamo? no al momento no lo tengo lì 71 a 106 Virtus Valencia 87 a 74 scrivimi in privato dai che ti rispondo io e tra l'altro la parola d'ordine che ha lanciato Donna Zoveide per questo punto il tuo nuovo soprannome Donna Zoveide e va lanciato un 14 oltre che al fatto che abbiamo notato che tutti al canestro che ha fatto superare gli 80 punti alla Virtus è stato un sospiro di sollievo collettivo perché l'hashtag Virtus 80 è niente in confronto a Bologna 30 quindi è la è veramente la nuova il trend del 2024 e peraltro non so se hai fatto caso ma anche il Valencia gliela ha dato su sì sì certo appena c'è stata la bomba che siamo andati a 82 da lì in poi ha fatto un canestro Valencia non ha più han capito cioè ti leggono ti leggono anche ti leggono anche no cioè probabilmente anche l'Eurolega sta vedendo se inserirlo come sì sì la Virtus 80 a questo punto si può anche dichiarare un po' con una forzatura quasi la quello che accade nel baseball la manifesto inferiorità oppure non è manifesto inferiorità K.O. tecnico K.O. tecnico ma c'è stato nella basket giovanile c'è stata c'è stata la finale sì sì bravo bravo io sinceramente non ho capito io la so quella regola se vuoi te la spiego perché sono arrivati praticamente praticamente quando non c'è un divario importante a un certo punto negli ultimi quattro minuti non esiste più il cronometro e si dà il limite di punteggio come si fa al campetto che è praticamente devono essere otto punti per la squadra che è in vantaggio infatti era in vantaggio in quel momento nella finale Tortona 71 a 65 e il il punto era 80 una roba del genere comunque a 11 tipo e si dà un limite e non c'è più tempo cioè la partita potrebbe durare anche mezz'ora hanno fatto questo regolamento qua meglio che non mi esprima tra l'altro a Tortona allenava coach Luca Ansaloni e mi è dispiaciuto tantissimo perché il vicino di casa di mia sorella lo vedo oltre che essere un virtusino verace e vero mi è dispiaciuto tantissimo ma non entriamo nelle regole della della next gen perché altrimenti altro che le querele ma no Partizan Efes 100 a 90 ho visto il quarto periodo abbiamo visto un clamorosissimo clamorosissimo veramente Alex Avramovic autore di 30 punti è andato in follia totale è stata una verità bellissima tra l'altro poi Real Panathinaikos 86 a 97 permettetemi se sono ripetitivo ma queste sono le partite che Bonzone adora perché queste non è una partita tra virgolette normale questo viene considerato da diciamo in gergo tecnico un reputational game cioè dove in qualche modo hai l'opportunità di lanciare un messaggio all'avversario va oltre il concetto dei due punti e Bonzone su ste cose psicologicamente ci sguassa da anni il fatto che abbia fatto 97 punti a Madrid e che abbia dominato credo che questo sia un messaggio molto chiaro anche in ottica Final Four e vado a esagerare in un'ottica di quella che potrebbe essere senza timori di troppe smentite o fuori dalle follie una la possibile finale di Eurolega cioè lui Bonzone ha lanciato a un avversario diretto un messaggio chiaro occhio perché noi ci siamo saremo anche un po' permettetemi il termine lo stravirgoletto un po' cazzoni e diciamo ogni tanto ci perdiamo in un bicchier d'acqua ogni tanto perdiamo delle partite un po' ignoranti abbiamo dieci sconfitte mentre voi ne avete cinque ne potevamo evitare soprattutto all'inizio un bel po' però adesso abbiamo trovato la quadra adesso siamo pericolosi adesso è un problema per chi ci affronta soprattutto per voi state attenti perché io vi ho già battuto vi ho battuto nel 2022 so come disinnescare Tavares so come renderlo in qualche modo so come non farvi giocare bene vi tolgo tutte le vostre zone di comfort e questo per buon zone è sicuramente un risultato importante dall'altra parte Fenerbaccio e Basconi è stato un sparatore Fenerbaccio un attacco atomico 111 a 96 l'Olympiakos nella seconda parte ha passeggiato a casa dello Zalgiris ovviamente l'hashtag è mai una gioia oppure l'hashtag non ci aiuta nessuno in un'ottica della Virtus Asvel Milano 81 a 77 dal più 17 che aveva l'Asvel a poco più di 4 minuti dalla fine ma Odolo ha avuto la tripla del pareggio non l'ha fatta Milano ha perso due punti pesanti e quindi lanciamo una questione una domanda a tutti i nostri ascoltatori è la fine di ogni speranza di raggiungere i play-in? punto interrogativo Bayer Stella Rosso in una partita importante il Bayer sta sfruttando il calendario 7-4-6-6 e dall'altra parte sempre per l'hashtag mai una gioia Barcellona 67 Monaco 77 dove nelle file di Monaco abbiamo 17 punti con percentuali non ottime 6 su 17 ma alla fine ha smazzato anche 8 rimbalzi e 4 assist il nostro amico col 55 Mike che considerando quello che ha detto Jack Sandriani di fatto vale più della famiglia regnante nel Principato Piri un po' di considerazioni varie intanto ho visto l'ultimo quarto del Monaco e ovviamente non può che venire in mente l'ultimo quarto di Bologna perché il Monaco ha giocato un ultimo quattro pazzesco perché il Barcellona hanno menato come Fabri gli arbitri non fischiavano più nulla ed è strano perché c'era Radovic che secondo me è il miglior arbitro d'Europa e praticamente ha dominato il Barcellona perché il Barcellona non ci prendeva mai però ha dominato il Barcellona e pensando come noi abbiamo dominato il Monaco nell'ultimo quarto comunque nel secondo tempo mi pare abbiamo vinto di 14 punti secondo tempo direi che può ancora più pensare a quella partita e al fatto che questa Virtus insomma alla fine è tostissima perché veramente mi ha impressionato a parte che Mike Jens devo dire la verità stava quasi per perdere lui perché è entrato ha fatto una serie di stupidaggini enormi poi ha messo una tripla che è incredibile però stavo facendo veramente delle stupidaggini enorme questo è quello che mi rimane di quella partita il pensiero alla Virtus è dell'impresa che ha fatto la Virtus di recuperare contro questa squadra tra l'altro diciamo che il ragazzo è fondamentalmente confident mi sembra l'aggettivo più carino per definire Mike direi che adesso do la risposta a Sandro Jack Sandreani non lo so obiettivamente non lo so la questione di Zizic io credo che fosse un'occasione perché comunque era un momento in cui l'EFS stava effettuando delle scelte importanti a livello di roster perché comunque Zizic o comunque con l'esplosione di Oturu il rientro dagli infortuni c'era Dom c'era Tibor Pleiss Zizic forse era entrato in una spirale complicata Misco Raznatovic che è l'agente di Zizic è un agente molto potente la Virtus ha deciso di farci un investimento grosso perché non è che l'ha fermato fino al 30 giugno quindi è una situazione temporanea 30 mesi gli ha dato due anni e mezzo cioè alla fine vuol dire fino al 2026 quindi si tratta di un investimento a lungo termine da quello che se ascoltate altre trasmissioni della Virtus che sono più inside dentro di noi alle dinamiche societarie pare che vi siano dei problemi extra campo da parte di Andrea e della moglie che Ante Andrea in arte Ante che probabilmente hanno dato fastidio e questo si può essere solo nella testa del giocatore per capire quanto quanto conta lui è sicuramente un pivot chiamiamolo old style che diciamo richiede degli adattamenti e dei modi di giocare di un certo tipo nella partita di domenica perché credo che sia la partita incriminata forse e sottolineo forse non ha convinto il coach per quanto riguarda la tenuta a livello difensivo bisognerebbe però e quindi sospendo il giudizio ma non perché sono paraculo semplicemente perché non ho gli elementi per valutare oggettivamente non sono in palestra otto ore al giorno con Ante Zizic e quindi non so per quale motivo coach Luca Banchi la domanda era scelta societaria questo è sicuramente un giocatore che è stato proposto alla società la società ne ha parlato ne ha parlato con l'attore l'attore ha dato il suo ok è stato fatto un contratto di 30 mesi e mi ricordo molto la storia di Mirotic cioè prendere adesso quel giocatore lì lo perdi esattamente firma per un'altra squadra firma per 30 mesi per un'altra squadra quindi in considerazione che probabilmente si perderanno due dei quattro lunghi che abbiamo che abbiamo oggi probabilmente questa scelta va anche va anche in questa direzione diciamo che se doveva essere preso per quest'anno probabilmente non sarebbe stato preso posso immaginare per il tipo di squadra che c'è immagino io ma così penso che sia un investimento per che vedremo soprattutto il prossimo anno perché no anche quest'anno perché voglio dire c'è ancora tanta strada da fare è chiaro che lui può giocare in un ruolo solo così come può giocare in un ruolo solo Dunstor quindi sono uno l'alternativa dell'altro e oggi Dunstor difensivamente dà delle garanzie maggiori ecco se vogliamo parlare di numeri i loro lunghi hanno fatto 11 punti 5 li hanno fatti nei 6 minuti in cui è stato in campo poi c'è di mezzo della casualità però probabilmente non l'ha messo più su per quello poi se ci sono altre cose tutti i rumors però io oltre a essere tranquillo su questo non ne parlerei nemmeno basta Zizic non ha giocato non l'ha fatto giocare avrà i suoi motivi non avrebbe cambiato nulla oppure se qualcuno mi riesce a spiegare cosa sarebbe cambiato con Zizic al posto di Dunstor vabbè ne prendo atto diciamo che probabilmente vedendo anche un po' la chat di Telegram Zizic riceve pochi palloni quindi viene poco coinvolto in attacco non tocca la palla il concetto di toccare la palla è molto importante per un giocatore perché anche se non va a concludere comunque lo tiene coinvolto mentalmente nel gioco questo l'ha imparato per esperienze e vale a qualsiasi livello un giocatore che deve fare 6, 7, 8 campi senza vedere mai la palla in difesa si distrae è ormai una cosa chiamiamola un fatto endemico è un fatto endemico un giocatore che non tocca la palla e fa 8 campi si perde poi è un problema di non credo che il problema sia stato Zizic se vogliamo ritornare alla partita di Sassari per la quale vi invito caldamente a parlarne nella prossima trasmissione qui rimarrei più sulle questioni europee Valencia eccetera per il semplice fatto che rischiamo di essere ripetitivi di andare fuori teme di snaturare un po' quello che è la trasmissione Euro Mario ecco vi invito vi inviterei a tenere come indirizzo la partita di giovedì che comunque è stata una vittoria ma Zizic ha giocato 6 minuti giovedì esattamente come ha giocato 6 minuti a Sassari è questo il discorso cioè 6 minuti di giovedì scorso sono passati inosservati non se ne è parlato 6 minuti a Sassari è diventato il tema non va bene diventa un modo di accusare più o meno velatamente l'allenatore esattamente quello è il punto allora parliamo dei 6 minuti perché 6 minuti giovedì perché alla fine alla fine vedi che ci sono delle situazioni che sono analoghe e quello che fa tutto è un tiro da 3 è sbagliato alla fine per vincerla o per perdela io non davvero per me non esiste nessun problema a Zizic giocherà quello che gioca ci saranno delle partite in cui giocherà di più ci saranno infortuni malesseri per cui potrà stare in campo tanto vediamo ci sono squadre vediamo che il Real Madrid ha dei lunghi molto molto alti molto grossi magari avrà quella è una interessante prova d'appello avrà più spazio o magari un attore proprio perché non vuole andare a giocare sullo stesso piano o magari cercherà di giocare small ball può essere benissimo anche considerato un altro discorso che abbiamo sempre fatto lo sparigliamento tra small ball e lungo dominante in teoria a lungo andare premia lo small ball a lungo andare sì a lungo andare questo che ora abbiamo altri messaggi penso che sì allora mia modestissima idea ma il riposo di Doblice per recuperare la migliore condizione fisica mi sa molto di taglio dice Matteo Cristoni ma guarda Matteo obiettivamente Doblice a una situazione clinica che ci portiamo dietro da settembre sulla quale pende un punto interrogativo gigantesco immaginati l'emoticon del punto interrogativo rosso di uno che ha avuto un infortunio serio nella finale dei mondiali e che poi ha avuto una ricaduta pesante sempre all'interno della stagione comunque per una persona che ha giocato sempre in patria che sta effettuando un'esperienza nuova all'estero non è così facile entrare nei meccanismi se ti perdi magari non senti semplicemente l'appoggio del piede poi fai fatica a tirare se tu non hai fai fatica senti senti dei problemi alla caviglia poi per il tipo di gioco che fai sei un tiratore hai bisogno dell'appoggio per fare i flotter eccetera non è facile non è facile e in questo momento lo può sapere solo lo staff tecnico sanitario della Virtus anche quello io mi auguro che ogni Endobridge possa da qui a fine anno nella volata finale essere una parte importante integrante della Virtus Segafreddo io ci credo perché è un giocatore esperto e posso dirti troppo scafato per perdersi in una situazione di questo tipo al momento evidentemente la pausa nazionale la finestra nazionale ci ha restituito un Dobridge che non è risultato idone ed è stato preferito poi anche perché devi fare una turnazione di stranieri è stato preferito sono stati preferiti altri giocatori in questo momento evidentemente secondo l'allenatore e ribadisco lo vede tutti i giorni in palestra davanti a lui ci sono altri giocatori sarà compito del giocatore sarà dovere del giocatore sbattersi più degli altri in allenamento per scalare posizioni e gerarchie come accade in qualsiasi gruppo poi poi buonasera domanda per il coach questo doppio stop delle spagnole in casa può considerarsi un episodio o può insinuare qualche pensiero di difficoltà future in questo momento lo vorrei considerare un episodio soprattutto da parte del Real Madrid perché Real Madrid bisogna anche valutare il fatto che viene dal trionfo in Coppa del Re secondo me sta già facendo un lavoro e ci può stare anche a livello atletico visto i vantaggi che ha in proiezione primavera per cui secondo me è un episodio bonzone ribadisco ci avrà giocato su questa cosa proverà a caricare i suoi giocatori eccetera ma se lo voglio guardare nell'ottica di Madrid è a comunque avevamo otto punti sulla seconda adesso abbiamo ancora otto punti sulla seconda ed è passata una giornata guardiamolo anche dalle parti della Casa Blanca per me è un episodio il Barcellona secondo me ha una fragilità intrinseca è una squadra che è 18-9 quindi comunque con un ottimo record perché è partita bene ma le squadre che sono a 10 sconfitte penso al Pane penso a Monaco secondo me sulla carta sono migliori non ci metto la Virtus per una questione di tante tematiche non voglio sembrare soggettivo però ti dico secondo me Monaco e Panathinaico sono meglio del Barcellona mia opinione perché dobbiamo poi vedere quando c'è da stringere e allora lì i manici contano la variabile sarà Rubio che nella fine è esordito con un 0-2 nella Spagna ha giocato una sola ok che però ha perso vediamo come sta Rubio sicuramente Rubio è un è una variabile pesantissima da valutare diamogli tempo di carburare anche a lui di capire di tornare al basket europeo dopo tanti anni di NBA dopo una situazione particolare lui il giudizio è sospeso per almeno un mese poi Ante è un ottimo rim protector ma se i piccoli perdono sistematicamente l'uomo deve fare sempre l'aiuto e finisce per capire scusate per aprire un buco in difesa il lato debole non funziona praticamente mai ma guarda più che il lato debole che non funziona mai la questione mi fermo sulla prima parte cioè il lato debole non funziona e non può funzionare nel momento in cui un giocatore si fa battere dopo mezzo palleggio se un esterno tiene 1 barra 2 l'optimum sono due palleggi a due palleggi tutte le rotazioni che provano e riprovano e la Virtus non ne sente figuriamoci a due palleggi le rotazioni funzionano a neanche mezzo palleggio qui ci dobbiamo obiettivamente affidare a un miracolo o a un errore palese dell'attacco perché il vantaggio è troppo forte e neanche Tavarre tanto per fare un esempio del più grande ring protector d'Europa può fare qualcosa se il tuo esterno si fa battere così facilmente quindi il lato debole anche se Scala arriverà sempre sempre un attimo dopo poi io voglio dire sul ring protector noi la Virtus ha Dunston e Mickey che sono entrambi tra i primi 20 stoppatori dell'Eurolega sono molto sottovalutati perché sono sicuramente più bassi ma hanno tanta verticalità e anche tanto tempismo quindi ring protector non guardiamo solo l'altezza ma entrambi lo sono il timing della stoppata il timing è veramente quando quando si parla di allora io credo che la Virtus l'ultimo dei problemi siano i piccoli che si fanno battere poi capiterà però ragazzi con Paiola Hackett Cordinier diciamo che quello non dovrebbe essere il problema principale e se lo è lo è anche quando è il campo dance non solo quanto è il campo di credo che il ragionamento sia molto influenzato dalla partita di domenica perché se tu difensivamente tieni una squadra che ha Chris Jones Harper lo stesso Brandon Davis li tieni a 74 la prova di giovedì difensivamente della vissata maiuscola una prova enorme e prendi 93 da Sasser è chiaro che non puoi fare dei ragionamenti razionali cioè fare ragionamenti razionali sulla partita di Sasser su 93 punti presi con 93 punti presi la Virtus avrebbe perso tutte le partite di Eurolega voglio dire non è che sarebbe forse no sì probabilmente avrebbe vinto solo la partita col Machiavi quindi avrebbe 26 perse una vinta quindi non si può quando c'è una cosa del genere non si possono fare bisogna prendere la partita di Valenza quella è la via esattamente poi ancora altri messaggi Eugenio questo l'abbiamo letto tutto chiaro è giustissimo ma allora perché non Lomas al suo posto contro Valencia non sarebbe stato meglio un giocatore più pronto come il Lettone dato che le prestazioni dato anche le prestazioni con la nazionale che un Dobric è in brutte condizioni che non può giocare più di 5 minuti anche qui lasciamo la discrezionalità l'allenatore che sa perfettamente dal momento che è attore protagonista capo allenatore da entrambe le parti può capire quanto sia diverso il contesto di una nazionale Lettone da una squadra di club da una tipologia di gioco di sistema di gerarchie di regole della casa chiamiamolo così nel quale Lomas sta cercando di inserirsi e una nazionale del quale Lomas è un protagonista acclarato da tempo sono due mondi totalmente diversi sono scelte credo che nella partita con Valencia le scelte di Cozbank abbiano pagato tutte poi se vogliamo considerare che è colpa dell'allenatore per quanto riguarda Sasseris e Jefferson fa quella partita lì perché ricordiamoci una regola aurea che vale nel basket grandissimo attacco batte grandissima difesa cioè le prodezze di Jefferson o di Brin Tyree perché sono state prodezze bisogna dare atto che sono state prodezze quindi a un certo punto gli si può stringere la mano senza andare a cercare colpe di banche compagnia cantante se questo tira in fade away con la mano addosso col difensore che gli corre incontro e fa canestro è bravo lui se fa 7 su 10 da 3 punti con la squadra che gli dà la caccia è bravo lui esistono anche gli avversari Piri che è più razionale del sottoscritto ha fatto un tasso tendenziale nelle due partite precedenti Sasser è tirato col 56 57% da 3 con la Virtus il 54 Virtus non è che ha giocato una partita svogliata a Bullic eccetera ha tirato con 23 su 27 da 2 c'è stata dentro ha segnato 88 punti se dall'altra parte hai un giocatore che è in giornata di grazia può capitare poi alla sconfitta danno fastidio capisco tutto ma vi ribadisco stiamo sui ragionamenti di Eurolega e perché stiamo sui ragionamenti di Eurolega perché ho un mio pensiero personale che vi voglio esplicitare e può essere uno spunto di discussione credo che in questo momento la questione di licenze immaginatevi le licenze come un branco di agnellini e le squadre come Virtus Valencia le due slave eccetera un branco di lupi affamati pensate quanto può cambiare in un'ottica di pianificazione gestione degli sponsor visibilità eccetera la possibilità di prendere una licenza decennale quanto può cambiare noi da tifosi in maniera più o meno di cuore pensiamo probabilmente forse chissà un obiettivo realistico è lo scudetto tant'è che nella trasmissione di prima abbiamo fatto un intervento preferiremo vincere con l'Olimpia piuttosto che l'Olimpia ma probabilmente il top management che gestisce milioni di euro e fa dei ragionamenti a breve medio e lungo periodo dice oh rega in questo momento per usare un gergo del poker si va all in sull'Eurolega perché noi dobbiamo portarci a casa quella licenza che probabilmente costa con l'idea del tifoso medio che può essere un Mario Corticelli un Pirin Ambers o chi per loro perché Mario Corticelli e Pirin Ambers non hanno in mano la gestione dei milioni di euro che hanno Baraldi, Ronce e compagnia cantante però probabilmente questa è una scelta probabilmente questo prosciuga a livello emotivo non fisico emotivo ho parlato con gente che è stata sportiva di alto livello e mi ha spiegato quanto le energie nervose possano incidere cioè la partita con Valencia era probabilmente uno spartiacco enorme ed io solo sa quanto questi ragazzi abbiano lasciato su quel campo non a livello fisico ribadisco ma a livello nervoso se prima che dopo questo magari non giustifica la sconfitta di Sassari agli occhi del tifoso agli occhi del tifoso ma agli occhi del membro interno della squadra del dirigente interno della squadra in qualche modo si può capire che in questo momento la Virtus è focalizzata su quello perché c'è una concorrenza che senza esclusione di colpi senza esclusione di colpi sta cercando in ogni modo di accaparrarsi le licenze perché è una fase in cui si rimescolano le carte e quindi tu ti devi presentare tu devi avere più appeal del partisan di averlo più della stella rossa di averlo più dell'alba di averlo più della Svel devi averlo più di Valencia cioè devi lottare per Dubai perché Dubai sta facendo tutto eccetera e mette sul piatto argomenti convincenti sotto forma di milioni di euro fitti che in una lega privata ribadisco privata è un argomento sui quali i top manager sono sensibili però la domanda Milano o Olympiacos dipende da come la poni se io pongo la domanda secondo te è più importante Milano o Olympiacos io credo che sia abbastanza normale dire Milano come importanza per quello che può essere lo sviluppo della stagione se fanno domanda preferiresti vincere al Pireo o con Milano già cambia la cosa perché una vittoria al Pireo ti cambia tante 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 cose in vista dei playoff però alla domanda quale sia la più importante è chiaro al Pireo puoi perdere ci sono molte possibilità di perdere e hai comunque possibilità di raggiungere l'obiettivo perdere con Milano raggiungere l'obiettivo diventa veramente complicato non tanto perché non dipende più da te dopo dipende da Milano trovi Milano che può perdere può perdere anche due partite anche se tu le vinci tutte quindi cambia so assolutamente sì anche perché guardando la classifica alla mano di fatto c'è un'intruto una in più delle sei che potrebbero andare ai playoff cioè considerando Real-Barcellona che sono Real 22-5 Barcellona 18-9 Panamonaco e Virtus 17-10 Olimpia-Cosso e Fenerbahce 16-11 va da sé che una di queste sono in sette per sei posti una di queste teoricamente va ai play-in sei su sette io continuo a pensare io se fossi Baraldi io mi piacerebbe il settimo posto perché fai un incasso in più fai uno forse due incasso in più perché hai la prova d'appello perché esatto tu puoi fai la prima in casa anche la seconda esatto fai la prima in casa si parla sempre di settecento settecento cinquanto ottocentomila no dollari euro di incasso poi se per caso pervi è comunque la seconda possibilità in casa con quella che ha perso tra la nonna e la decima e a quel punto se vinci vai ai play-off con quella che ha vinto tra la nonna e la decima con quella che ha vinto scusami ho detto quella che ha perso niente si ti è scappato ok con quella che ha vinto tra la nonna e la decima tu ti ritrovi quindi aver fatto due partite due incasi in più dopo averne quantomeno quantomeno due no una una quantomeno un altro quindi equivarebbe ad avere il vantaggio campo nei play-off né più né meno esattamente cioè questo che però è chiaro che è tutto molto perché poi invece le perdi tutti e due dopo non sei nei play-off allora alla fine dici se arrivavo sesto però ho capito anche il settimo posto io non lo vedrei come come un problema anche perché giocherai contro chi sono quelle la ottava la nonna la decima in questo momento Basconia Basconia Maccabi Valencia Partisan io credo che le puoi battere tutte esatto io credo che in casa Norte si possono anzi in casa le hai battute tutte in casa le abbiamo battute tutte tranne Basconia perché ci devi ancora giocare all'ultima giornata sì peraltro sì se anche le puoi battere tutte le due in caso tutte e quattro in caso quindi vincere tutte e due anche se io ho visto la partita del Basconia e il Basconia mi ha impressionato offensivamente una squadra pazzesca e poi mi sono accorto che appena hanno cominciato a giocare duro quelli del Fener duro duro si sono un po' sciolti ma altrimenti sono una squadra che offensivamente hanno una potenzialità enorme non fai 96 punti a Istanbul per caso il problema sono i 111 che prendi anche se obiettivamente grande costruzione dei tiri da parte del Fenerbahce quindi va dato il primo quarto che era un bombardamento continuo sì un discreto bombardamento Fiora messaggi sì ho degli audio ma che bello andiamo con Marco buonasera sono Marco buonasera sono Marco Zizic 30 mesi beh di buono di sicuro buono 30 mesi c'è il grana i giocatori non lo so però mi è sembrato un po' strano e dopo tutto Zizic veniva da due partite da 15 e 12 punti vedevo giocare così poco mi fa un po' specie e ah poi a proposito complimenti per la cravatta se la metti fuori dalla finestra la scambia per la colonia del barbiere ti voglio bene questo è bellissimo ti voglio tanto bene il barbershop Mario Corticelli barber Mario poi abbiamo colonnello Gomelski magico ciao ragazzi ciao Stefano ciao Mario colonnello Gomelski volevo dire una cosa riguardo al fatto di Zizic non ci interessa cosa ha fatto è molto sbagliato perché io ho pensato che fino adesso Banchi non lo facesse giocare perché pesta più o meno le stesse mattonelle di Schenghelia e quindi magari quando giocano insieme può diventare un problema ma senza Schenghelia la Virtus non ha avuto gioco in pivot basso e mi aspettavo che gli dessero la palla continuamente che giocasse 25-30 minuti perché è largamente il giocatore più forte di sotto poi non sarà un fighter senz'altro però quel gioco lì Dunstan non ce l'ha Michi ce l'ha poco e mi aspettavo che lui venisse sfruttato per il giocatore che è per quello che riguarda la lettura dei numeri Stefano come dice il mio amico Babini fotografano una situazione ma non la spiegano ed è vero effettivamente è vero ieri ne parlavamo alla solita cena negli allenatori secondo me è evidente che ci sia un guasto dentro la squadra e anche con l'allenatore ci sia qualcosa che non funziona io non c'ero e ho parlato male dei numeri io sono stato schierato con banchi tantissimo mi sono stufato non mi piace secondo me Dobri e Cedilli sono due giocatori pazzeschi e nella nostra squadra uno non è nei 12 e se c'è non entra l'altro gioca 6 minuti qualcosa che tocca io però voglio dire una cosa questo fa parte di tutta una serie di ragionamenti che il tifoso può fare per me dovrebbe giocare di più Zizic Dobric così diamo la palla tutto bene ma bisognerebbe partire da una situazione da una situazione in cui voglio dire c'è un problema no? beh in imitazione di questo tipo in Neurolega io quello che dico è che andare a tirare fuori queste cose secondo me non ha va bene per parlarne però stiamo parlando di una squadra che sta facendo praticamente dei miracoli in Neurolega sta facendo una roba impensabile ormai ci siamo quasi abituati ma io non mi sono ancora abituato facendo una roba incredibile giocando in un certo modo con dei giocatori con delle gerarchie perché secondo me è quello che conta molto e Banchi l'ha già detto un paio di volte anche in conferenza stampa per lui sono importantissime le gerarchie ok quindi evidentemente questo sistema funziona evidentemente lui avrà parlato parlerà con Vigic parlerà con Dobrich ognuno sa qual è il suo con con Loma ci mancherebbe che non lo facesse ognuno sa qual è il suo ruolo ognuno probabilmente sa anche qual sarà il suo ruolo nei playoff il suo ruolo l'anno prossimo però voglio dire in una situazione di questo tipo andare a rimescolare queste cose non non cioè anche Sassari che cosa c'entra Vigic se dai 20 palloni a Vigic a Sassari non li dai a degli altri non è che cioè i possessi sono quelli abbiamo segnato 88 punti ma chiudiamo quella non c'entra niente allora guardiamo dietro guardiamo perché ne abbiamo preso il 93 però i possessi sono quelli io ti dico io se fosse l'avversario io sono molto contento se la Virtus dà 20 palle dentro a Vigic ce ne dà 20 meno fuori agli esterni ecco io sono sono molto contento così come sono contento da Virtus quando vedo che viene data molto la palla dentro a Diop o a quell'altro e invece non prende la palla invece non prende la palla di Jefferson che abbiamo visto cioè questo è hai capito quello che voglio dire ci stanno tutti questi discorsi però non ci vedo la ragione in questa fase però io cioè la tecnica di Miki in post basso Miki vicino al canestro di tecnica ne ha cioè possiamo dire tante cose su Miki ma non sulla tecnica in post basso di Miki che obiettivamente a livello di piede perno è un professore poi c'è anche il giro e tiro ribadisco ribadisco mi piacerebbe essere presente nell'ufficio che c'è in via dell'arcoveggio 49 barra 2 che è l'ufficio degli allenatori allora sì che vorrei capire cosa si dicono di cosa parlano eccetera quali sono le strategie potessi essere lì allora capirei ribadisco non ho elementi per assumere un giudizio c'è il giudizio di Fabri che persona che continua a stimare perché è preparato eccetera non dico che sia sbagliato ha un suo perché ha un suo senso però come il mio manca di elementi probatori è un'ipotesi è un'supposizione legge i numeri come li leggo io sono numeri importanti perché dicono tante cose sa anche lui che ci sono delle partite che perdi perché dall'altra parte c'è quello in stato di grazia e purtroppo non hai una K47 volgarmente detto kalasnico per sparargli che è l'unico metodo per fermarlo e devi prenderne atto e chiaramente lo sa anche lui che magari ha i suoi dirigenti i suoi giocatori e compagnia cantante eccetera eccetera che vanno a tirare in mezzo quello che all'interno del roster è stato impiegato meno quello che magari è un tuo giocatore di rotazione una tua riserva eccetera perdi una partita ti vengono a fare le pulci e sempre permettetemi il linguaggio in francese ti vengono a scassare i coglioni perché ah perché non hai messo questo quante volte ti è capitato nella tua carriera che hai perso delle partite ah ma se tu avessi fatto giocare questo quando tu nella tua lettura della partita hai giustamente nel tuo punto di vista ritenuto di far giocare quest'altro giocatore ma piuttosto che quell'altro però gli altri che non sono dentro il tuo cervello non hanno il polso della situazione che hai tu della squadra cominciano a farti la punta le matite e ti dicono ah però Fabri eccetera ed è lo stesso discorso che stanno facendo a coach banchi poi io non lo so io li vedo vedo le foto vanno tutti alla festa di mascole sono tutti contenti io da tifoso perché in questo caso Paolo a tifoso sono contento c'erano tutti non c'erano tutti girano voce agli un spogliatoio spaccato qualcosa di guasto agli unber non passano la palla non mi pare non mi pare se poi è così della questione di Komasek e Prelevic lo sono venuto a sapere quattro anni dopo che Komasek passava la palla un secondo dopo a Prelevic in uscita dai blocchi per fargli perdere ritmo nel 96-97 lo sono venuto a sapere nel 2000 probabilmente della Virtus 23-24 magari verrò a sapere qualcosa nel 2027 ma mi auguro che non sia così perché se la squadra fosse obiettivamente malata permettetemi il termine non avrebbe prodotto una prestazione come quella di Valencia stiamo cercando di capire come quella di Valencia come quella di Monaco come quella di Monaco perché riguardate la partita di Barcellona quello che ha fatto il Monaco nel secondo tempo è il secondo tempo che abbiamo fatto noi contro il Monaco cioè alla fine non lo so mi viene da dire se a Sassari Bellinelli mette quella tripla a piedi vinciamo non si parla di Zizi e non si parla di Zizi e questo è incredibile torno a dire a Barcellona Zizi ha giocato sei minuti no contro Valencia contro Valencia ha giocato sei minuti esattamente sei minuti credo abbia fatto anche quattro punti in entrambi adesso non vorrei sbagliarmi ti do le statistiche di quelle che so cioè Valencia anche perché sto nel sito dell'Eurolega quindi Zizi perché lì non si è parlato tutta la settimana tutta la settimana scusate tre giorni però perché lì non si è parlato i commenti 7.57 4 punti 1 su 2 da 2 2 su 2 ai liberi 2 rimbalzi 2 rimbalzi 6 di PIR 0 di plus minus quando Valencia credo abbia meno 1 di plus minus ma poco conto insomma i numeri sono quelli ripeto non non il giorno che sentirò fare le stesse discorsi quando la Virtus vince va bene veramente a me personalmente ho innervosito leggere dappertutto questa storia di Zizi e tutti che dicono ah perché così non mi riferisco a te Fabrizio però leggere tutte delle robe che riguardavano poi l'aspetto offensivo ma io buono vi apri 93 punti se prendiamo 93 punti noi perdiamo in trasferta da almeno 10 squadre se prendiamo 93 punti viene più che altro da pensare come domanda legittima con un 23 su 27 da 2 perché la ripartizione dei tiri sia stata 27 tiri da 2 30 tiri da 3 probabilmente per quello se avessimo ripartito diversamente non avremmo fatto una percentuale così alta evidentemente siamo andati sotto veramente diciamo nelle situazioni nelle situazioni più favorebili hai visto quante volte abbiamo anche riscaricato la palla fuori nonostante eravamo veramente vicino al canetto c'era proprio la volontà di far girare la palla il più possibile lì c'è poco da fare non sono riusciti in 24 48 in 60 ore perché poi sono passati da un aprito all'altro non sono riusciti in quel tempo a trovare cioè andava giocato come una partita di Eurolega perché a Sassoli ha vinto 6 delle ultime 7 cioè poche storie andava giocato come una partita di Eurolega difesa cattiveria pressione tutte queste cose non l'hanno trovata non sono riusciti a metterla in campo a quel punto la vince a farne uno in più di loro solo che loro hanno fatto 93 e farli 93 in trasferta la vince non le ha mai fatti anche perché da allenatore posso dirti che quello che ha fatto coach Nenad Markovic a livello di qualità di circolazione di palla ci sono state alcune azioni che sono state fantastiche perché mi ricordo la tripla di Charalampopoulos dall'angolo in cui la palla ha ruotato tutto l'arco e l'han toccata tutti è l'azione perfetta della palla canestro cioè in certe situazioni tu sapevi che avrebbero fatto canestro perché hanno giocato una partita offensivamente di qualità notevole poi anche a me rompe le scatole perdere a Sassoli perdere da Sardara per 50 milioni di motivi però evidentemente qui vado ai corsi ricorsi storici a 2022 giocare con Sassoli dopo Valencia evidentemente non è il massimo ti dico adesso poi parliamo di altro però ti dico la stranezza per dire il massimo è una stranezza con Sassoli il terzo quarto è finito con la Virtus sotto di tre e nel quarto quarto la Virtus ha stirato 22 volte e Sassoli 12 cioè no tu sei sotto di tre e tiri 10 volte di più e non vinci e non vinci 5 su 6 da 3 hai tirato 22 volte cioè sono proprio delle partite che 22 volte 22 volte in un quarto è tanto è tanto sono 88 tiri sono gli 88 possessi allora poi visto che andiamo 88 tiri 88 tiri i possessi bisogna che ci aggiungi anche le palle perce sono oltre i 100 possessi ben oltre i 100 possessi che se giocassi una perda così al Pireo dove l'obiettivo sarebbe stare intorno ai 73 73 oltre 73 ecco diciamo a 75 76 possessi probabilmente saremo qua a vergarlo col sangue perché se guardate la pagina di Piri Numbers e la presentazione di questa puntata ha fatto un po' già il preview della partita capite messaggi attenzione però io forse sono stato frainteso la mia non era una critica né verso banchi né devi far giocare questo né devi far giocare quello era solo per cercare di capire la situazione a me interessa capire la situazione non chi deve giocare perché io non sono l'allenatore e quindi per me forza a tutti e a tutti i giocatori della Virtus era per cercare di capire quali sono i meccanismi e se effettivamente il giocatore è gradito o meno all'allenatore tutto lì se gli fai un contratto di 30 mesi la risposta è sì non possono non essersi consultati cioè io ho capito lo spirito della tua domanda ho colto l'occasione per fare un discorso più ampio perché sapevo quanto fosse un tema caldo la questione di Zizic assolutamente so quanto sei carico tifoso ma tifoso con la T maiuscola per cui la risposta che ti posso dare su questo proprio con assoluta certezza l'allenatore ha dato il suo placet placet prego Fiora allora io ve lo dico dei messaggi ne abbiamo applicato sono tutti stralunghi scatenati declama però allora velocemente che del nostro attuale lascerà il post a Grajulis siamo sicuri di privarci di Michi nonostante qualche amnesia ha fatto la differenza yes no question quindi cosa rispondete rispondete spero che rimanga Michi anch'io e anche Grajulis anch'io e anche Grajulis ah ecco perfetto non è che Grajulis dicevano che fosse fatto poi mantilichinava vuole tornare in Europa ci si dà un'occhiata credo che vada a Parigi io so questo lascialo là ha rifiutato Asvel lascialo là a parte che se mantilichinava a Parigi vabbè che cosa c'è l'Eurocap a fare aggiungerei al discorso di Mario il sold out di Eurolega pesano molto nella valutazione della dirigenza lo spettacolo di Eurolega non è paragonabile a quello dell'LBA vabbè capite come dire anche la Champions League di calcio la Serie A di calcio perdonami chiaro ci sta poi aspetta Champions League di calcio Serie A di calcio un attimo perché in Serie A di calcio non hai una limitazione degli stranieri come hai in LBA cioè dammi Olimpia contro Virtus e le squadre di LBA con più stranieri rispetto ai sei che hanno adesso secondo me è poi vero non arrivi all'Eurolega ma il gap si riduce di un bel po' secondo me i dazzi doganali sono sempre stati un'ottima cosa del medioevo diciamola così adesso siamo nell'età contemporanea nel ventunesimo secolo poi Masha che tra l'altro ti aggiorno sarà a vedere la partita stasera grande l'avevo scritto grande Masha sarà presente non ha mica tutti i torti Pieri il settimo posto sarebbe ottimo detto questo preferirei arrivare dal sesto posto in su allora per tornare a quello che ha detto Pieri si rischi di fare due partite però la terza potrà di guadagnare però è vero che comunque vada i due partite certi in casa e probabilmente una terza è un tuo playoff è come un incasso playoff come se arrivassi quarta ma la quinta ti batte 3 a 0 io sogno di arrivare nelle prime quattro finché la matematica non mi condanna io vado avanti con questo sogno lo so non poniamoci limiti poi Beniamino mi collego ora non ho capito alla V arriverà un play americano grazie al momento non abbiamo notizie di questo ciao Beniamino Miki Lundberg Abbas sarebbero da rinnovare all'istante per l'ultimo si vociferava già di sì cercando di acquistare il biglietto per mio nipotino per domenica su Viva Tichette ho anche curiosato sui prezzi di una partita di Milano incredibile non lo sapevo si parte con dei 20 euro in certe tribune se ho capito comunque prezzi mediamente molto ma molto più bassi dei nostri ne abbiamo già parlato sui prezzi dei biglietti ti consiglio Virtusini siamo noi la trasmissione dei tifoi su cui Gianluca Bovinelli su questo è il Master of Masters ecco vero che abbiamo ad oggi maturato un tesoretto per le ultime partite ma con il mazzo che si sono fatti i ragazzi si meriterebbero almeno di arrivare Sesti la percentuale Matteo la percentuale al tiro da due della Virtus domenica di quanto era la percentuale di Sassari da tre di quanto era 54% Sassari e 23 su 27 la Virtus 85% la Virtus si primo quarto non ha sbagliato un tiro era a metà secondo quarto se non sbaglio 9 su 10 da due all'intervallo eravano 13 su 14 ecco 13 su 14 poi tanto per collegarsi al tipo di pallone che deve arrivare a chi poi forse da voi non si è parlato di Zidic ma in altre trasmissioni e in tantissimi gruppi sul basket si è parlato un sacco del suo scarso utilizzo nonostante la vittoria podcast ne hanno parlato all'inizio guardate io provo a vederla come se fosse un allenatore Zidic è sempre tra virgolette stato un giocatore da quintetto quando c'è stata la possibilità di prenderlo lui si aspettava sicuramente più minutaggio secondo me ne ha tutto il diritto sono sempre stato uno che anche quando vinciamo cerchi di trovare quello che si poteva far meglio per cercare di avere un miglioramento continuo chi è l'ittente del messaggio? Beppe Cap grande ciao Beppe volevo solo dire che innanzitutto non giocava più in quintetto in in Turchia nell'Efes anzi viaggiava a media dai 3 ai 4 minuti a partita quindi poi nessuno ha diritto di giocare in quintetto secondo me non ci sono le gerarchie che decide banchi ma non perché non è così non è così lui è arrivato che giocava 4 minuti a partita ed era stato sopravvanzato da Otturu quindi partiamo da questo presupposto poi dopo vediamo il quintetto base te lo dico da allenatore Beppe che sono sempre con tutte le proporzioni di 1 a 1 milione per carità però certi ragionamenti vanno sono validi per tutte le categorie tu devi sempre ragionare non solo nell'ottica del quintetto non è più il basket che si gioca a 8 di fatto ai roster di 12 le rotazioni sono sempre almeno a 9 10 ma a 9 10 importanti tu devi sempre capire l'equilibrio tra la prima e la second unit questa è la cosa importante c'è gente che l'allenatore può scegliere se farli partire in quintetto o meno per vari motivi ci sono giocatori che preferiscono partire dalla panchina guarda ti faccio l'esempio banale della mia squadra se io fioravanti tanto per non fare un nome lo facessi partire in quintetto gli farai un dispetto bravo questa è una cosa lo dico serenamente me l'ha chiesto ritengo che possa essere corretto altri hanno bisogno di partire il quintetto base deve introdurre la partita se per qualcuno ma questa deve essere una chiacchierata profonda confidenziale tra l'allenatore e il giocatore e dall'altro deve essere anche una valutazione tecnica sulla reale meritocrazia se per qualcuno partire in quintetto è basilare e l'allenatore lo ritiene opportuno ok ma se l'allenatore fa le sue valutazioni tecnici consulta con lo staff e pensa che non meriti il quintetto e Piri l'ha detto vieni da 4 minuti a partita e sta in una squadra a più bassa classifica della Virtus perché questo è anche il discorso penso che non sei così ingennuo da pensare che tu arrivi alla Virtus in quintetto ai 25 minuti garantiti se ti hanno fatto queste promesse sono promesse da marinaio avanti poi ovvio che quando ruoti a 8 o comunque pochi giocatori vinci una partita dove ti rendi conto che hai rischiato di perderla qualsiasi altra cosa anche in quel caso bisognerebbe dire ciò che non è andato bene parlo per esperienza da giocatore se è un giocatore che dovrebbe giocare gioca poco finché vinci te lo fanno notare poco ma appena perdi secondo me è giusto fare un passo indietro e cercare di capire le altre visioni un allenatore deve conoscere i suoi giocatori in tutto secondo me ovviamente pensieri miei un abbraccio scrive Andrea Gardini ciao Gardini ciao Gardini un messaggio concordo con Mario è arrivato mezz'ora fa e poi concludiamo con questo audio di Sandro Jacks Andrea beh io Fioravanti lo farei partire il problema è che poi torna comunque a me fa più rispetto non che non mi tiene nell'ultimo quintetto però me lo devo meritare io finire la partita no per un giocatore quelli che dicono è meglio essere nell'ultimo quintetto che nel primo soprattutto se è il quintetto che ti porta alla vittoria o nei momenti più importanti però non dipende dall'allenatore cioè in parte dall'allenatore ma anche quello che tu hai mostrato durante la gara vero non è che te lo regala perché tu dici vabbè non parti in quintetto quindi parti alla fine vai alla fine no beh col Valencia in Virtus c'erano quattro giocatori della panchina che hanno giocato tutto l'ultimo quarto questa è lettura della partita da parte dell'allenatore e non affidarsi a gerarchie prestabilite che può essere sempre e te lo dico dall'allenatore un modo ottimale per dire oh io ho messo quelli che ritengo migliori e mi è andata male in quel momento invece hai deciso di giocare con quattro della panchina perché in quel preciso momento perché tu dovevi ragionare all'istante hai visto che erano quelli più performanti bravo banchi andiamo alla fine sì abbiamo finito ok allora il momento dei ringraziamenti grazie Stefano come sempre grazie a te ci mancherebbe grazie a tutti i nostri ormai radio video ascoltatori spettatori compagnia cantante che anche stasera ci hanno tenuto compagnia siamo pronti per la trasferta del Pireo al pallasport della pace dell'amicizia e mai nome fu meno azzeccato Euro Mario tornerà martedì prossimo alle ore 18 sempre qui su Radio Basket Italia un saluto a tutti Euro Mario con Mario Corticelli a tutti